Assegnare i fondi per istituzioni, associazioni e manifestazioni culturali con bandi di gara inizio anno, con regole certe, paletti e controlli. Apprometterò il consigliere regionale del Partito Democratico, Luciano Monticelli, che ha ricevuto dal presidente della regione, Luciano D'Alfonso, l'incarico di seguire il settore della cultura, delega che resta in capo al governatore. Il diversamente assessore Monticelli, questo incarico intende prenderlo terribilmente sul serio, a cominciare dall'applicazione della legge 46 del 2015, rimasta ancora sulla carta, e che prevede l'istituzione di una commissione tecnica, incaricata di valutare le richieste di finanziamento, di un osservatorio composto da esperti per verificare l'efficacia dell'intervento ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'emanazione di bandi per progetti triennali in linea con le direttive europee, alimentato da un fondo unico per la cultura. L'osservatorio, il programma triennale, ma soprattutto i bandi. Ecco, allora io ritengo che sia importante creare subito i bandi, perché anche per gli operatori sanno a cosa vanno incontro durante l'anno. Non possiamo arrivare a fine anno con il fatto che chi ha già operato non sa di quali finanziamenti può ricevere da parte della regione Abruzzo. Quindi questo è uno degli impegni principali che farò, credo, appena ad anno nuovo, perché adesso siamo impegnati nella fase del bilancio. Una svolta, non c'è che dire. Finora immemorabili consigli regionali si è continuato, tra feroci polemiche ed epocali scontri, ad erogare a pioggi fondi per la cultura senza criteri oggettivi, a suon di emendamenti e subemendamenti attaccati ad altre norme, a beneficio di decine e decine di enti e manifestazioni, ciascuna costretta a ottenere la benevolenza, di questo quel consigliere regionale che inevitabilmente tende a favorire enti e manifestazioni che operano nel suo territorio e bacino elettorale. Monticelli però non vuol sentir parlare di marchette come hanno bollato questi finanziamenti consiglieri del Movimento 5 Stelle. A volte si esagera anche nei termini, perché comunque il consigliere rappresenta una determinata zona, quindi non è che faccia qualcosa di grave. Probabilmente non c'è stata una organizzazione, una programmazione, quindi questo su questo si ha perfettamente ragione, ma appunto fare i programmi e i bandi all'inizio dell'anno servono anche a questo. Al di là che poi possa avere il finanziamento, ma sa con lui il quale lo riceve come deve comportarsi durante l'anno, durante il momento in cui fa una manifestazione. Non ritengo che comunque sia così da criticare fortemente, perché poi in fondo lo diamo alle associazioni. Se qualcuno rimane fuori, questo bisogna capire il motivo.